A Roma i giornalisti cinematografici con alla testa Alberto Moravia discutono sull'ennesima grana giudiziaria di Pierpaolo Pasolini insieme con le più impegnate firme dello spettacolo. Il pubblico ha dibattito verte sul sequestro dell'episodio che lo scrittore regista aveva girato per il film Rogo Tag. L'accusa che ha portato Pasolini sul banco degli imputati è quella di diripendio alla religione. Tutti gli interventi, al di là di un dubbio critico sull'opera, hanno computato i termini dell'accusa e hanno polemizzato sul conflitto fra l'autorità che sovrintende la censura e l'autorità giudiziaria.